capcom wow no non voglio accedere a steam mentre gioco vediamo adesso questo gameplay che come avevo promesso lo farò tutto il gameplay di... come qua spacca e timpani zio bono passiamo 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 il volume della televisione facciamo prima abbassiamo del tutto tanto voi lo sentite lo stesso e niente niente dicevamo facciamo il remake facciamo il gameplay di DuckTales Remastered andremo a vedere le differenze tra il gioco originale e il gioco tarocco questo qui la remasterizzazione è in hd del 2013 gioco uscito da qualche giorno che sto adorando mi sono divorato mi piace un casino e andremo a vedere tutti i vari livelli in puntate cerco magari farò un livello per puntata in modo da averne un po' di più cominciamo già vedendo questa schermata di selezione che è già diversa praticamente da quella originale molto più colorata con lo sfondo di Paperopoli o Duckburg per dirsi voglia e niente cominciamo una nuova partita facciamo normale ma no facciamo difficile facciamo gli sboroni difficile che differenza c'è fra normale abbiamo modalità facile intanto vi lascerò come sottofondo questo filmato anche qua una novità una storyline un po' più completa in realtà con tutta la banda Bassotti mi cojoni quanti sono che andranno a cercare di rapire di rapinare il deposito del Scrooge McDuck ovvero alias Paperon dei Piperoni il nostro scopo sarà quello di recuperare almeno nel primo livello questa cosa che vogliono rubare come dicevo appunto questa storyline ve la lascio vedere intanto guardate i filmati i filmati li lascerò anche se non sono lunghissimi comunque potete seguire intanto che ascoltate la mia noiosissima voce se non rimango accecato da sta luce che ho qui e niente stavo dicendo la modalità facile che più che modalità facile avrebbe dovuto chiamarsi modalità ridicola perché è veramente ridicola allora dicevamo la differenza la modalità facile che è veramente ridicola la modalità normale che è un po' più complicata la modalità facile non ci saranno vite saranno vite infinite ci sarà un checkpoint ogni 10 secondi praticamente i nemici colpendoci ci toglieranno soltanto mezzo cuore e via dicendo la modalità normale rimane un po' più complicata ci saranno le vite se si fa game over bisogna ricominciare a livello da capo in modalità difficile ci saranno soltanto due a differenza di la modalità normale che ci saranno in ogni livello un contenitore dei cuori in modalità difficile ce ne saranno soltanto due ci saranno più vite però sarà più difficile il gioco in sé e modalità estremo invece è il vero remake del gioco originale nel senso che avrà le stesse regole perché aveva Salvatore c'hai rotto i maroni i bestemmioni che volano figura di merda grazie ai tuoi la gente vedrà quanto sei sboccato il gare e niente stavo dicendo Salvatore cacchio la modalità estremo invece è appunto il remake vero e proprio nel senso che le regole saranno le stesse non c'è modo di continuare se si fa le move se comincia il gioco da capo il gioco è particolarmente difficile a differenza delle altre modalità e niente io faccio modalità difficile che è un pelino più complicata della modalità normale ci saranno soltanto due contenitori di cuori extra che troveremo nei vari livelli uno in Transilbania e uno in Himalaya se non lo ricordo male e niente come vedete questo livello è nuovo perché nel gioco originale questo livello barra tutorial non c'era i comandi sono gli stessi due tasti la differenza è che si può impostare come ho fatto io adesso il pogo schiacciando io sto usando un controller della 360 quindi A per saltare e X tenendo schiacciato per modificare per usare il pogo volendo si può ottenere l'impostazione originale ovvero quella che premendo per fare il pogo bisogna saltare schiacciare giù e X mentre così basta schiacciare solo X senza diciamo allora non sarà non cercherò di prendere tutti i tesori perché se no ci metto una vita cercherò sostanzialmente di prendere i tesori segreti sì per farvi vedere dove sono che corrispondono alla modalità normale e ai contenitori dei cuori nella modalità normale i contenitori ogni livello ha un contenitore di cuori mentre in modalità difficile saranno soltanto due e gli altri saranno sostituiti da dei tesori segreti che ci daranno più premi come dire più soldi i soldi che sono stati inseriti non fanno solo punteggio come era nella versione originale ma a capirla non faranno solo punteggio come nella versione originale ma c'è una galleria che ci permetterà di sbloccare bozzetti concept art immagini eccetera la musica del gioco utilizzando i soldi che abbiamo che abbiamo sfruttato che abbiamo preso da il gioco e come vedete dobbiamo salvare anche i tre parvoli qui, qua, qui, qui qui ok c'è la possibilità di salto vi faccio vedere questo perché non è l'importante schiacciando stars si può saltare un filmato io già so la storia perché ho già finito non lo posso prendere e vabbè e vabbè niente questo primo livello più che altro è un tutorial come vedete i tesori compaiono così dal nulla come era nel gioco originale appunto quindi ci sono cose stanze segrete che non sono tanto segrete nel senso che spesso si vedono nel gioco originale era molto più difficile trovare le stanze segrete qua si trovano no cazzo allora così poi ce nemmeno qua sopra ecco nella modalità difficile ci saranno molti meno gelate rispetto alla modalità normale le torte che ricaricano completamente l'indicatore dei cuori non ci sono sto facendo parecchia fatica perché ho proprio la luce puntata negli occhi zio buono praticamente un lato dello schermo non lo vedo perché vedo il riflesso della televisione però vale quindi vieni dai su su allora questo facciamo così prendiamo questo saltiamo qua e prendiamo questo lui yellow eccolo lì non l'avevo visto come ho detto non vedo la parte destra dello schermo per via della luce però se magari provo a girare un po' la televisione vediamo cosa succede se facciamo così ecco vedo tutto storto però ci vedo non dovrei più fare cazzate abissali perché c'è un po' riflesso della luce proprio in mezzo allo schermo e non vedevo ora ti dirigiamo a noi la baracca maledetto per mili connellini scozzesi una mossa falsa sono un po' c'è un star ma però non ne vale la pena ma pensa a te per un bassotto senza un dente bassotto che poi tra l'altro non so perché in italiano poi è stato prodotto con bassotto perché è la banda dei beagle in teoria non sono bassotti non sono bassotti non sono bassotti in italiano è stato prodotto con bassotto ovviamente bigole bigolo era bigolo oh ce l'abbiamo quasi fatta si ci porterebbe un mio mucchio d'orso e arrivò il mio deposito ma figurati ecco il deposito è un'altra cosa carina che è stata inserita ovvero la possibilità di mi si vuol dire saltare c'era una vita in boscata forse è la solidarietà estreme non ne ho più più e dicevo la possibilità di tuffarsi a bomba nel nel deposito adesso vediamo se riesco a battere il boss con un cuore solo non è complicato il primo boss però è un colpo è facile prenderlo diciamo questo è il primo boss come dicevo questo livello non esisteva nel come si chiama nel gioco originale non esisteva è stato inserito appunto in questo remake qua abbiamo Archie non è complicatissimo bisogna solo stare attenti ecco esatto aspettare che si piazza sotto i boss hanno una bella interazione ambientale che non c'era nel gioco originale quindi anche i boss che combatteremo durante il gioco sono molto diversi da anche se sono gli stessi sono molto diversi da da quelli originali nessuno che avranno delle interazioni ambientali avranno una gra aiuto ho rischiato tantissimo allora alto basso basso dai sono fatta senza morire ho rischiato tantissimo bene questo è il primo livello direi che possiamo finire qua questo video finendo questo punto livello farò vedere due cosine prima di chiudere spero che mi sia piaciuto e ogni lunedì adesso avremo una puntata una nuova puntata per se faccio un livello al giorno sono 5-6 se ne abbiamo per qualche quindi lunedì avremo una puntata di Daktis cioè un aperone di livello è sicuro ma come appunto dicevo la trama adesso zio paperone ha scoperto che in quel quadro c'era un codice segreto inserendo questo codice nel super computer viene a scoprire che nascosto in vari punti del mondo appunto l'Himalaya le miniere africane il transilvane eccetera ci sono dei tesori particolari uno diritto sulla luna ci sono dei tesori particolari lui ovviamente avido ricco desideroso di denaro come più di ogni altra cosa decide di apprendere andare e partire per questo viaggio e recuperare tutti i vari tesori poi la trama si avvolverà leggermente ma non mi spoilerò nulla vi lascerò godervi man mano che vedremo il gioco scusate questa ambientazione un po' buia ma non ho altro modo per fare un po' più di luce per questo cosa me lo posso mettere in faccia non ci vedo più una mazza infatti avrò un mezza faccia dovrei mettermi un'altra luce di poco così poi non ci vederei più del tutto secondo il manuale della giovanola mot dobbiamo fare circa 500 euro quindi vuol dire che deve raggiungere sulla luna c'è un tesoro ovvero il formaggio verde che non sposto giù la luna e niente questo è il primo livello come vedete si sblocca in questo punto cinque livelli potremmo scegliere noi quale fare in ogni livello appunto è nascosto un tesoro abbiamo ammazzonia transibania milioni africani malai e la luna altra novità che è stata inserita è questa appunto niente di che non serve a niente però sblocca un trofeo ed è carino possiamo tuffarci nel deposito d'oro sguazzare basta non penso che ci sia cose particolari niente questo è una delle grosse novità che sono state introdotte in questa area di masterizzazione ci sono i vari livelli qua si può tornare indietro fuori dal cosa per vedere la galleria come vedete si possono comprare i vari oggetti io in questo back posso comprare questa musica per dire si possono comprare un sacco di cose sfondi, disegni, matita schizzi, bezzetti non so guardiamo un paio di schizzi sono concept art sostanzialmente disegni a matita disegni a matita sono questi faccio vedere uno faccio vedere due adesso mi faccio vedere tutto non so grafica serie tv appunto le grafiche della serie tv sono state realizzate in vari disegni personaggi musiche eccetera e niente questo è il primo livello ci vedremo settimana prossima con il secondo episodio penso che farò direttamente partirò a Transilvania in Malai in modo da recuperare subito i contenitori dei cuori e aver meno fatica a proseguire nel gioco ricordo che stiamo giocando in modalità difficile non è estremamente difficile però comunque è abbastanza carino niente detto questo spero che il video vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo video e boom shakalaka